Nicola R. Revisore Revisore Bene, allora, questo pomeriggio si parla delle nostre origini che, come vedrete, per come queste vengono ricostruite da quella che io chiamo la scienza delle nostre origini, cioè la paleoantropologia, è un quadro di conoscenze che nel corso soprattutto degli ultimi decenni è molto cambiato e si è arricchito enormemente. Possiamo dire che con forza e sulla base di dati scientifici possiamo dire che condividiamo tutti una storia, una storia evolutiva, forse è la storia più bella, visto che è la nostra storia. La paleoantropologia ha questo privilegio, affronta con i metodi della scienza quella che è un'origine dell'umanità e quindi tocca un quadro paleontologico, paleoantropologico che ci appartiene e quindi ci interessa da vicino. Come ha giustamente detto il compianto Stephen Hawking che, sapete, è scomparso qualche settimana, potremmo dire, fa, potremmo iniziare questa chiacchierata dicendo che noi siamo solo una specie evoluta di scimmie su un pianeta minore di una stella media ma siamo in grado di capire l'universo. Questo ci rende qualcosa di veramente speciale. E io da qui volevo iniziare parlandovi di una mostra, di un'esposizione che abbiamo appena finito di allestire. È stata inaugurata il 12 di maggio in un paesetto vicino Roma, si chiama Caprani-Caprenestine, una mostra che ha questo titolo. Qualcosa di davvero speciale, richiamando la frase di Hawking, e il sottotitolo è Come quando siamo diventati umani. E la userò, questa mostra, un po' perché può rappresentare, nella sua articolazione, può rappresentare le nostre caratteristiche fondamentali di esseri umani. Effettivamente, quando con Fabio Di Vincenzo ci siamo messi a lavorare per questa esposizione, abbiamo detto, ma non facciamo la solita, una delle tante esposizioni sull'evoluzione umana, quella che comincia con l'Usi e poi va avanti con l'Australopiteco, Homo erectus e poi Neandertal, infine Homo sapiens. Partiamo dal presente, partiamo da alcune caratteristiche che sono le nostre caratteristiche e andiamo a vedere come queste si sono generate nel corso del tempo, che addentellati hanno nel tempo profondo, come sono venute fuori, come e quando siamo diventati umani. E abbiamo identificato, come vedete, alcune caratteristiche, che adesso passeremo in rassegna, da la locomozione bipede attraverso un'altra serie di passaggi fino a quest'ultimo passaggio qui che ha a che fare con uno dei temi di questa rassegna di antropologia che si tiene qui a Pistoia, cioè la creatività o comunque la nostra capacità, la capacità veramente tutta nostra, di produrre un mondo quasi parallelo al mondo reale, è un mondo fatto di simboli, di idee, di immagini. E queste caratteristiche, come vedete, sono un po' come le dita di una mano. Cinque caratteristiche di quella che è la mano nostra, una nostra caratteristica davvero speciale, che però non è unica, come sapete. Noi condividiamo il fatto di avere una mano ed è le dita con una opponibile alle altre, la capacità di prensione. Lo condividiamo con altre 400 specie di primati viventi e migliaia di specie di primati estinti. Bene, cominciamo dall'inizio. La prima caratteristica che noi abbiamo individuato è il bipedismo. Siamo bipedi, cioè abbiamo effettivamente, se ci pensate un attimo, un modello di locomozione assolutamente unico. Chi mi sa dire quale altro mammifero o quale altro vertebrato cammina su sole due gambe in posture erette? Anche altri animali che camminano su due gambe, per esempio gli uccelli, ma è perché appunto hanno gli arti superiori per volare? Gli stessi dinosauri, molti dinosauri che erano bipedi fondamentalmente, ma avevano una postura tutt'altro che eretta. Questo curioso connubio tra locomozione bipede e postura eretta è una caratteristica nostra unica. Nessun altro primate è bipede, anche se ci sono alcuni che ogni tanto su due gambe fanno pochi passi. E gli antropologi si interrogano da tempo su come mai si sia venuto a impostare questa caratteristica fondamentale nostra. e abbiamo capito che tutto questo è avvenuto ai tempi, per esempio, di questo scheletro ricostruito sulla base di una quantità di frammenti rinvenuti in Etiopia, in un'area che si chiama Midlawash, nel nord dell'Etiopia. Negli anni 90 venne rinvenuto questo scheletro di una creatura molto antica, siamo intorno a 4 milioni e 400 mila anni fa, che come vedete in tutto e per tutto ci ricorda le sembianze di una scimmia antropomorfa, potrebbe essere qualcosa che ricorda uno scimpanseo, un gorilla, queste lunghe braccia, queste lunghe mani, con queste dita, anche magari con le falangi ricurve, questo cranio piccolo, con questa grande faccia, queste grandi mascelle, ma poi però è bipede e il bipedismo qui viene ipotizzato sulla base della morfologia di un distretto scheletrico particolare che è il bacino. Il bacino di un bipede si riconosce a prima vista, ha caratteristiche, il nostro bacino, che sono completamente diverse da quelle di tutti gli altri primati, in particolare da quelli delle scimmie antropomorfe, nostre sorelle, per esempio gli scimpanseo sapete che sono le creature a noi più simili tra i viventi, anzi forse sono i più simili, tra noi e uno scimpanseo passa l'1,5% di differenza in termini di genoma, di DNA. Quindi veramente noi siamo, come ha detto Jared Diamond, il terzo scimpanseo, visto che di scimpanseo ce ne sono altre due specie, anche se, insomma, ma come vedremo più avanti, qualche differenza c'è, insomma, non ho mai visto uno scimpanseo che su un palco mostrando delle slide racconta del proprio passato ai suoi consigli, quindi effettivamente delle differenze esistono, però dal punto di vista genetico e dal punto di vista anche della storia evolutiva che ci lega a loro siamo molto prossimi. Bene, questo potrebbe sembrare uno scimpanseo tranne appunto per il distretto scheletrico che chiamiamo bacino, insomma, il cinto pelvico che in uno scimpanseo ha caratteristiche adesso non vi sto a dire ma che sono inequivocabilmente quelle di un animale che cammina a quattro zampe o che si muove sugli alberi, mentre nel caso nostro questo ampliamento delle ali liache, il sacro che si ampia e altre caratteristiche fanno sì che qui ci siano inserzioni muscolari e un sistema di statica e di dinamica del movimento che caratterizzano questa creatura come bipede. È un bipede tra l'altro, guardate qui, con ancora il pollice, l'alluce opponibile. Quindi è un bipedismo veramente primordiale. Questa è forse veramente la prima o uno dei primi nostri antenati che iniziano questo percorso. Un percorso che ha un forte determinismo ambientale. Se andiamo a guardare il quadro delle nostre conoscenze e queste sono le nostre conoscenze in questo grafico io riassumo un po' tutto quello che sappiamo sull'evoluzione umana oggi è ovviamente una ipersintesi stiamo parlando di barrette che rappresentano nel tempo questa è una scala del tempo rappresentano l'esistenza di specie estinte non tutte Homo come noi Homo sapiens ma vedete che qui c'è H, H, H davanti ma qui c'è A che sta per australopiteco qui c'è AR che sta per Ardipitecus e qui c'è P che sta per Parantropos insomma vari generi e varie specie una ventina in tutto che rappresentano tutto quello che sappiamo del nostro passato relativamente recente 7 milioni di anni o giù di lì ed è tutta quella storia che segue una grande divaricazione evolutiva abbiamo detto i parenti a noi più prossimi tra i viventi sono gli scimpanze qui ci siamo noi e tra noi e loro c'è una distanza genetica tale da farci pensare che l'origine sia intorno a 5 6 forse 7 milioni di anni fa quindi tutti questi sono nostri antenati nella misura in cui sono successivi a questa grande divergenza evolutiva e sono tra l'altro tutti bipedi e sono bipedi lo sappiamo dalla morfologia delle loro ossa in particolare del cinto pervico ma anche da qualcuno di voi le conoscerà quelle famose impronte rimaste sulle scene di vulcaniche di un sito in Tanzania che si chiama Laetoli e che hanno a che fare con un'altra specie molto nota Australopithecus afarensis la specie del famosissimo scheletrino trovato in Etiopia negli anni 70 che si chiama Lusi Lusi sta qui più o meno intorno a 3 milioni e 200 mila anni fa le impronte di Laetoli un po' più sotto intorno a 3 milioni e 150 mila anni fa lo scheletro che vi ho mostrato poco fa è il rappresentante più importante della specie Ardipithecus ramidus e sta qui a 4 e 4 quindi vedete che adesso non abbiamo il tempo di passare in rassegna tutta questa varietà di barrette vi basti sapere che però ce ne sono tanti di bipedi ce ne sono stati tanti di bipedi e sono tutte creature vissute in Africa ma nel momento in cui io disegno il profilo dell'intero continente già mi devo correggere perché sono vissute in questa particolare area dell'Africa cioè tra il corno d'Africa qui su e il Sudafrica creature che quindi si sono adattate a un contesto ambientale particolarissimo che proprio in quell'epoca incominciava a trasformarsi non è un caso che gli scimpanzei gorilla continuano a esistere in quest'altra parte dell'Africa dove ancora ci sono le foreste tropicali equatoriali sono animali che vivono in quel contesto mentre da quest'altra parte dove c'è la ben nota frattura tettonica che chiamiamo Rift Valley si andarono a sviluppare nel corso del tempo nuovi contesti ambientali per questo parlavo prima di determinismo ambientale ci sono dei fattori ambientali importanti che hanno comportato la necessità per questi nostri antenati di cambiare i propri modelli adattativi e l'evoluzione ha favorito individui bipedi in questo caso erano bipedi che vivono ancora in foresta lo possiamo capire anche se riguardiamo un attimo l'immagine di prima questa è chiaramente una creatura che vive in foresta ancora delle lunghe braccia delle mani capaci di afferrare bene i rami quindi è un animale di foresta ma che probabilmente vive in un contesto di foresta frammentata tale per cui ogni tanto deve attraversare dei tratti aperti e in questi tratti aperti da attraversare il bipedismo deve essere stato decisivo per la sopravvivenza e quindi quelli che erano bipedi tendevano più facilmente a sopravvivere e a trasmettere questo carattere alla discendenza è l'ABC dell'evoluzione per selezione naturale quella che ci ha insegnato Charles Darwin un secolo e mezzo fa e che poi rimane la teoria dell'evoluzione che non è più tanto una teoria è proprio un'evidenza e quindi vi dicevo qui c'è lo sfondo dell'Africa per dirci che in questo contesto ambientale molte specie si sono diversificate diciamo che il bipedismo in postura retta è uno stratagemma adattativo che ha avuto successo si è venuto a creare quella che noi di solito chiamiamo una radiazione adattativa cioè a partire da un modello fondamentale una scimmia antropomorfa bipede si è venuta a creare una varietà di forme che si sono adattate soprattutto in termini di nicchie trofiche cioè di adattamenti alimentari uno un po' diverso dall'altro e quindi non finiremo più di elencarli tutti questi nomi in latino servono semplicemente per identificare delle realtà che andiamo via via cercando di comprendere meglio è chiaro che alcune specie le conosciamo molto meglio per esempio Australopithecus afarensis la specie di lusi abbiamo molti fossili a descriverci questa specie mentre altre come vedete anche dalle barrette più corte le conosciamo meno bene abbiamo sicuramente meno evidenze che ce lo raccontino o forse sono specie esistite per tempi più limitati e quindi hanno lasciato meno fossili comunque una varietà di forme poi succede qualcosa in questa varietà di forme alcune tendono a sviluppare delle mani più abili e anche qui c'è un preciso determinismo ambientale torniamo un attimo all'immagine di prima non vi sarà sfuggito che queste barrette come le ho chiamate prima sono organizzate in base al tempo quindi la lunghezza di ciascuna barretta è commisurata a questa scala del tempo ma poi sono anche organizzate da sinistra verso destra in base a una sempre minore affinità con l'unica specie vivente di tutto questo gruppo cioè noi homo sapiens quindi tanto più la barretta è a sinistra tanto più è lontana dalle caratteristiche che abbiamo noi oggi possiamo dire che queste sono le forme ancestrali e poi questo questa semplice disposizione dei nostri antenati ci indica un evento fondamentale che deve essere avvenuto intorno a 3 milioni 2 milioni e mezzo di anni quando da una parte si sviluppano queste creature che chiamiamo parantropus e dall'altra si iniziano a sviluppare delle creature che chiamiamo homo è un altro aspetto legato a un forte determinismo ambientale qui il cambiamento climatico sempre lì in Africa orientale poi a cascata anche giù in Sudafrica ha comportato un ulteriore inaridimento delle aree nei quali i nostri antenati vivevano non è più una foresta a chiazza ma diventano quelle distese di savana che ci sono ancora oggi ed è proprio in questa fase che le curve climatiche oddio scusate è proprio in questa fase che le curve climatiche ci dicono che questo cambiamento ha avuto un altro ulteriore incremento i nostri antenati bipedi di foresta a questo punto usano il bipedismo per muoversi in spazi più aperti diciamo è come una sorta di preadattamento da questo punto di vista il bipedismo oggi si usa un termine tecnico coniato da Stephen J. Gould exaptation cioè qualcosa che è servito ha funzionato come adattamento in un certo contesto ambientale e poi viene cooptato per nuove funzioni nei nuovi contesti ambientali in una fase successiva e in questa nuova fase successiva il bipedismo viene a servire i parantropi che diventano dei grandi masticatori di vegetali sono dei nostri antenati abituati a masticare continuamente cibo vegetale perché nel nuovo contesto non ci sono più le risorse di nutrimento della foresta ancorché frammentata bisogna ricorrere a qualcosa di diverso e quindi loro si specializzano nel mangiare cibi vegetali coriace addirittura erba diventano quasi degli erbivoli hanno dei grandi molari delle enormi strutture legate alla masticazione e dall'altra parte invece si sviluppa un altro tipo di creatura una creatura che ha le mani più corte e il pollice relativamente più lungo delle proporzioni corporee che ancora un po' risentono delle caratteristiche dell'antenato e soprattutto incomincia ad avere un cervello un po' più grande questa nuova creatura è il genere omo non siamo certo noi omo sapiens lo vedete da questa ricostruzione paleoartistica come si dice che siamo di fronte a una creatura umana primordiale ma è comunque qualcosa per cui ci sentiamo un essere per cui ci sentiamo di usare l'appellativo generico di omo è omo perché incomincia a lasciarci delle tracce visibili di manufatti sono i primi manufatti del paleolitico specie ciottoli scheggiati in modo molto semplice tanto da creare però un margine tagliente è qualcosa di archeologicamente riconoscibile gli archeologi oggi riconoscono questi strumenti come prodotti da mani umane non si tratta di sassi rotti ma c'è una ripetitività del gesto che produce una ripetizione del tipo di prodotto e questo tipo di prodotto è il primo paleolitico quello che molti chiamano olduvaiano da un sito in Africa che si chiama appunto Olduvai e a queste creature inizia anche a crescere per così dire il cervello nel senso che inizia qui un percorso che nel giro di due milioni di anni in tutta l'evoluzione del genere uomo porterà il fenomeno dell'encefalizzazione cioè la progressiva espansione encefalica a essere l'elemento dominante se nella fase precedente questa l'elemento dominante era stato il bipedismo in quest'altra fase successiva l'elemento dominante sarà proprio l'encefalizzazione associata al paleolitico ed altre cose di cui stiamo per parlare quindi è successo veramente qualcosa di nuovo nel percorso della nostra evoluzione il momento che abbiamo fissato intorno a due milioni e mezzo di anni qui in questa grande biforcazione del nostro albero evolutivo comporta la comparsa di quelli che noi ci siamo ormai negli ultimi anni abituati a chiamare gli early homo cioè i primi rappresentanti del genere homo si discute a non finire su quante siano le specie di early homo e se siano davvero da chiamare homo o se siano piuttosto da ancora considerare australopiteco perché è una fase di transizione una fase importante di grande cambiamento ci sono ancora i retaggi delle forme più arcaiche e iniziano a comparire in modo vistoso le caratteristiche nuove e c'è questa scena che a me piace molto questa istantanea scattata nell'Africa nelle savane africane di due milioni di anni fa circa ovviamente non si tratta di un istantaneo si tratta di un disegno fatto sulla base di un diorama che c'è al museo di storia naturale di New York una ricostruzione di paleoambiente con questi personaggi e un disegnatore ha rappresentato il tutto in un'opera che potete anche facilmente trovare su internet bene che cosa si vede? si vede che ci sono dei nostri primi omo ovviamente primordiali che però usano le mani non più per arrampicarsi il bipedismo acquisito nelle fasi precedenti ha liberato le mani ha liberato le mani da impegni di locomozione e a questo punto le mani vengono usate per altre attività e in questo caso per sfruttare una nuova nicchia trofica è una situazione ambientalmente climaticamente molto calda come ho caldo io in questo momento e in questo nuovo contesto le risorse ambientali di una volta incominciano a scarseggiare soprattutto ci sono delle stagioni in cui è difficile procazzarsi il solito cibo e allora mentre i parantropi quelli che vi avevo fatto vedere prima quelli arancioni tendono a mangiare addirittura l'erba per poter sopravvivere qui viene sfruttata un'altra parte del quadro alimentare da un nivoro dei primati nostri antenati cioè la parte carnivora e lo sviluppo della parte carnivora può essere ottenuto facendo un po' un mestiere non proprio esaltante quello degli cosiddetti spazzini della savana siamo nati non come grandi cacciatori del paleolitico ci saranno questi dopo ma come degli scavengers come si dice in termine inglese cioè degli sciacalli e qua c'è proprio uno sciacallo che se ne sta andando infilandosi nella vegetazione e questo avvoltoio non si decide ad atterrare e magari le iene stanno lì in lontananza e tutti aspettano di poter accedere a questa carcassa che è stato il risultato di una predazione non nostra un branco di leonesse o un leopardo l'ha uccisa se ne è cibato e poi sazia il branco di leonesse o un leopardo se ne è andato e a questo punto c'è una fila una fila di questuanti a questa carcassa e ci infiliamo noi con le nostre doti da scimmie un piccolo gruppo qua sono rappresentati un maschio e una femmina non è che voglia di chiamarli un uomo o una donna che usano le mani e usano anche dei bastoni chissà forse urlano per cacciare gli altri pretendenti alla stessa carcassa e queste mani vengono usate per lanciare sassi e altri sassi abilmente scheggiati per produrre un margine tagliente vengono usati per fare il lavoro del macellaio quindi c'è un utilizzo di questa risorsa di nutrimento disponibile in savana senza bisogno di escogitare strategie particolari di caccia ancora che può essere utilizzata ancora prima che venga poi definitivamente sfruttata dall'avvoltoio o dallo sciacallo di turno ora dicevo non è un origine particolarmente nobile non è un momento di gloria però è un momento cruciale vi vorrei sottolineare ancora una volta qui il bipedismo di prima è stato determinante per poter fare tutto ciò e questo che accade adesso è l'inizio di tante storie è l'inizio veramente di un grande cambiamento che comporta poi la successiva evoluzione di quello che chiamiamo il genere homo fino a quando poi alla fine arriviamo anche noi homo sapiens perché come abbiamo detto un attimo fa qui inizia il fenomeno dell'encefalizzazione qui comincia il paleolitico ma qui comincia soprattutto secondo il mio punto di vista un altro fenomeno che è un cambiamento di tipo proprio ecologico voi avete presente quella che solitamente si chiama la piramide alimentare cioè esiste una grande biomassa di vegetali poi in una misura minore in termini di biomassa ci sono gli erbivori e poi ancora più sopra ci sono i carnivori tanto più sono carnivori apicali tanto più stanno in cima la piramide perché la si disegna come una piramide perché la biomassa vegetale è una quantità enorme ma gli erbivori sono una quantità di biomassa minore perché c'è una certa dissipazione di energia nel passaggio dalla fase basale a quella superiore i carnivori sono ancora di meno perché ulteriormente c'è un'energia che si dissipa quindi i carnivori tendono a essere relativamente pochi rispetto agli erbivori detto in maniera molto semplice e questo voi ce l'avete sicuramente presente qualunque documentario avete visto su non so girato nelle pianure del Serengeti in Kenya avrete visto mandri infinite di bufali e un branco di leonesse da una parte un paio di iene dall'altra quindi la quantità di bufali è decisamente superiore alla quantità di carnivori che di quei bufali si ciberanno ora i nostri antenati nel momento in cui vengono colti da questa istantanea delle savane africane di due milioni di anni fa sono saliti nella piramide alimentare sono passati da consumatori primari da erbivori a consumatori secondari cioè carnivori e nel tempo diventeranno sempre più apicali questo che vuol dire vuol dire che devono essere relativamente pochi ci deve essere una bassa densità di popolazione per poter sfruttare le risorse di nutrimento ma questo questa novità evolutiva questi nuovi protagonisti della scena evolutiva dell'Africa di due milioni di anni fa hanno successo successo significa che sono ben adattati dell'ambiente possono sfruttare bene le risorse alimentari e quindi si riproducono e quindi crescono di numeri e come si fa contemporaneamente a crescere di numero e a dover rimanere pochi perché bisogna sfruttare le risorse del nutrimento l'unica soluzione è diffondersi e questa è un'altra nostra caratteristica che emerge allora nel nostro racconto la tendenza degli umani a diffondersi costantemente lo vediamo anche oggi no? il continuo per mille motivi non certo quelli di allora le popolazioni crescono e tendono a diffondersi a migrare come si dice e la diffusione è un qualcosa che si associa proprio perfettamente nel tempo a quello che vi sto raccontando cioè proprio a partire da due milioni di anni fa cioè proprio quando i nostri antenati cambiano modello adattativo quando incominciano a produrre manufatti litici quando il cervello incomincia a crescere nelle loro teste nel corso generazione dopo generazione quando cambiano la loro posizione ecologica e salgono nella piramide alimentare incominciano a diffondersi geograficamente ed è lì che poco tempo dopo visto da con l'occhio del paleontologo visto nel senso alcune centinaia di migliaia di anni dopo questi eventi noi troviamo nostri antenati non più solo lungo le fratture del Rift Valley o giù in Sudafrica ma li troviamo addirittura nell'isola di Java e anche oltre li troviamo poi verso la Cina e poi e poi qui dalle parti nostre in Europa è una straordinaria diffusione geografica che è la prima grande diffusione geografica dell'umanità non è fatta da uomini come noi sono uomini primordiali con un cervello grande poco più di quello di uno scimpansee poco più di quello di un australopiteco siamo se volete delle cifre intorno a 600 700 800 millilitri poco più di mezzo litro considerate che noi in media ne abbiamo quasi un litro e mezzo hanno in mano dei manufatti del paleolitico estremamente arcaici che incominciamo a trovare disseminati nei siti preistorici di mezzo mondo eppure si diffondono si diffondono si diffondono il primo sito su cui ci racconta bene questa storia è qui sul caucaso per circostanze casuali a volte i fossili si conservano e noi li scopriamo ed è sul caucaso che è stato trovato una piccola miniera d'oro di informazioni su questa prima diffusione e intercettiamo proprio lì in questa sorta di tetto del vicino oriente vicino alle porte diciamo dell'Eurasia incontriamo i primi nostri antenati che si diffondono fuori dall'Africa e poi li troviamo qua giù nell'isola di Java i famosi pitecantropi di cui sicuramente molti di voi avranno sentito parlare anche se è un termine che ormai non si usa più tanto e poi come vi dicevo più a nord verso la Cina di qua e verso l'Europa da quest'altra parte e a guardarla su una prospettiva cronologica più lunga l'evoluzione dell'intero genere uomo è una storia di diffusioni la prima diffusione quella di cui vi ho appena parlato è quella qui rappresentata sostanzialmente da queste barrette blu di cui mi piacerebbe parlarvi ma ci vorrebbero alcuni giorni che non succederà oggi però vedete quante storie ci sono qua dentro da questi primi omo poi più verso est fino a quelle forme umane che chiamiamo omo erectus a Java in Cina o addirittura questi piccoli ometti dell'isola di Flores un'isola a metà strada tra l'Indonesia e l'Australia dove queste creature sono arrivate probabilmente per caso portate da una zattera naturale e poi non sono stati capaci di tornare indietro e hanno avuto un'evoluzione in quell'isola isolati da tutto il resto dei fenomeni evolutivi che avvenivano sulle masse continentali tant'è che hanno subito un fenomeno che noi chiamiamo nanismo insulare si sono ridotti di dimensione un po' come succedeva agli elefanti che popolavano le isole del Mediterraneo in fase in cui il Mediterraneo era leggermente più asciutto potevano arrivare in Sicilia gli elefanti africani e poi isolati nella Sicilia per molte generazioni per molti millenni si rimpicciolivano e quindi sono rimasti questi tecnicamente si chiamano elefas falconeri con degli elefanti alti così come uno schnauzer che possibilmente hanno dato origine poi alla leggenda dei ciclopi perché qualche in età classica qualcuno ha trovato uno di questi crani poco più grande di un cranio nostro e con un grande buco in mezzo alla fronte che è quello della proboscia e del naso e ha pensato a una creatura quasi umana con un solo occhio al centro della fronte bene non solo gli elefanti e tanti altri mammiferi non solo altri vertebrati tendono a ridursi o a ingrandirsi a seconda dei casi nelle isole anche anche questi esseri umani primordiali lo hanno fatto qui nell'isola di Flores probabilmente nel corso di una storia evolutiva che risale a un milione di anni o anche più questa è di nuovo una scala del tempo vedete qua stiamo parlando soltanto degli ultimi due milioni di anni prima era in verticale parlavamo di sei, sette milioni di anni questi sono gli ultimi due ed è la storia del solo genere uomo che vista così assume tutto un altro aspetto perché proprio tenendo conto di queste successive diffusioni geografiche vedete che anche questa storia si ramifica continuamente non è una storia sequenziale non è che compare omo e poi piano piano diventa omo sapiens non è una storia di successioni evolutive è una storia di ramificazioni evolutive anche dettate proprio da questo grande orizzonte geografico compare una novità evolutiva importante in Africa di solito per qualche strano motivo succede in Africa e da lì poi le forme nostre antenate tendono a diffondersi geograficamente diffusi in questo grande orizzonte geografico tendono a differenziarsi localmente non c'è contatto neanche per flusso genico tra una popolazione che vive a bande rarefatte nel territorio in Francia nell'attuale territorio francese e un'altra che vive nell'attuale territorio cinese e un'altra che vive giù in Sudafrica non c'è il minimo contatto e nel corso delle generazioni delle migliaia di anni delle decine di migliaia di anni delle centinaia di migliaia di anni tendono a formare nuove specie ed è così che capite il senso di questi binomi in latino e questa è una scelta anche un po' limitata c'è qualche mio collega che tende a usarne ancora di più di nomi latino a immaginare l'esistenza di ancora più specie di quelle che vedete qui rappresentate e un'altra cosa che vediamo in questo grafico è il fatto che i figli della prima grande diffusione geografica hanno storie diverse in Africa in Europa in Estremo Oriente vedete in Estremo Oriente per esempio tendono a arrivare a tempi recentissimi in Europa i primi abitanti d'Europa che conosciamo soprattutto da dei siti spagnoli ma anche qui in Italia abbiamo dei siti importanti documentati da manufatti litici perché i manufatti a questo punto incominciano a rappresentare proprio le briciole di Pollicino cioè seguiamo la storia dei nostri antenati non solo attraverso i fossili ma anche attraverso i manufatti del paleolitico che sono tra l'altro più durevoli più facili da recuperare nei siti archeologici o paleontologici se preferite vedete questi primi abitanti d'Europa a un certo punto si estinguono e si estinguono in una fase che è questa qui che vedete anche in Africa e anche in Asia ha dato poche testimonianze fossili perché? perché se qui ci fosse una curva del tempo vedremmo che tra 800 e 600 mila anni fa ormai siamo al di qua dell'ultimo milione di anni c'è stata una delle più intense profonde e devastanti glaciazioni dell'ultimo del quaternario l'ultimo milione di anni è stato caratterizzato da una serie di glaciazioni sono iniziate proprio allo scoccare potremmo dire dell'ultimo milione di anni e poi hanno proseguito con un ritmo di circa 100 mila anni tra glaciazioni e interglaciali glaciazioni e interglaciali noi viviamo adesso nell'ultimo di questi interglaciali l'ultima glaciazione è finita 10 mila anni fa ce ne sarà una prossima ma non abbiate paura non è per domani insomma ecco e questo andare e venire del clima soprattutto qui in Europa comportava delle situazioni di grande difficoltà per la sopravvivenza di queste forme umane primordiali ed è per questo che pensiamo che a un certo punto i nostri antenati si siano estinti per essere succeduti per così dire dai figli di una successiva diffusione geografica quella che vedete qui chiamata con il nome di Homo Heidelbergensis una specie che si conosce ancora poco effettivamente la scienza ha imparato a conoscere meglio soltanto negli ultimi vent'anni nei libri di scuola quasi non c'è ma è molto importante vedete è una specie di umanità di mezzo tra i figli della prima grande diffusione geografica e della grande fase evolutiva del genere Homo quella qui rappresentata in blu e le fasi successive che in Europa è quella dei Neandertal i famosi Neandertal che sono questa barretta rossa e in Africa diventa Homo sapiens questo grande triangolo arancione rappresenta la comparsa e poi la rapida diffusione ancora una volta di una nuova specie qui c'è una importante novità evolutiva di cui stiamo per parlare che coincide con la comparsa di Homo sapiens e che porta la nostra specie a diffondersi con relativa rapidità su tutto il pianeta per questo l'ho rappresentata con questo grande triangolo arancione e tutto questo avviene a carico di popolazioni che ormai sono diventate delle bande di cacciatori raccoglitori in cui vale il criterio diciamo così dell'unione fa la forza qua entra in gioco un'altra nostra caratteristica anche questa non è proprio esclusiva nostra così come le mani le condividiamo con tutti gli altri primati anche la socialità la condividiamo con molte specie di primate e con molte altre creature in realtà pensate alle società delle formiche anche se lì è una dimensione un po' diversa ma pensate soprattutto alle società dei babbuini piuttosto che degli scimpanzei o dei gorilla gli orangutang no perché sono animali molto più solitari ma soprattutto gli scimpanzei hanno delle forme di socialità molto sviluppate ma i macachi o i cebi in Sud America hanno delle grandissime forme di socialità con qualcosa che sentita raccontare da uno specialista di quel campo vi farebbe subito pensare a qualcosa veramente di antropomorfo bene la socialità è qualcosa che ci caratterizza nel senso che in noi questa socialità si è particolarmente sviluppata si è particolarmente sviluppata anche in questi nuovi contesti in cui le strategie di caccia ad esempio richiedevano una comunicazione tra gli individui un'interazione positiva tra gli individui l'uso del fuoco che a un certo punto entra in gioco probabilmente ha favorito anche delle aggregazioni come quelle che sono rappresentate in questa immagine che io trovo estremamente efficace di due paleoartisti olandesi che si chiamano Adri e Alfons Kenis che riescono a dare questa carica di grande emozionale questa grande carica emozionale alle loro rappresentazioni e io penso e non sono l'unico a pensarlo che proprio dietro questo aspetto della socialità piuttosto che sulla produzione dei manufatti litici che a pensarci bene rimangono relativamente costanti nel tempo è piuttosto dietro alla socialità che si nasconde il motore della nostra encefalizzazione per questo qui accanto a questo argomento vi riporto uno schema del fenomeno dell'encefalizzazione a partire dall'australopiteco qualunque esso sia che aveva un cervello più piccolo di mezzo litro arriviamo alle forme ultime dell'evoluzione umana i neandertal o noi homo sapiens con un cervello che è tre volte più grande i neandertal sapete avevano un cervello più o meno grande come il nostro anzi in media un po' più grande anche se accolto all'interno di un cranio allungato mentre noi abbiamo un cranio più rotondo ma le dimensioni il volume encefalico è quasi un litro e mezzo che è tre volte il meno di mezzo litro di un australopiteco o dei primissimi omo quindi è un fenomeno assolutamente sorprendente nel giro di due milioni di anni questo tessuto biologico questa materia grigia che è un tessuto tra l'altro metabolicamente assai dispendioso si triplica cresce esponenzialmente mentre i manufatti li vediamo su dei plateaux per un milione di anni sempre i manufatti del primissimo paleolitico poi per un altro milione di anni i manufatti del paleolitico antico ma un po' più raffinato adesso non stiamo a usare troppi termini tecnici e invece il cervello nel frattempo cresce esponenzialmente è per questo che io penso che dietro alla crescita del cervello ci sia soprattutto la socialità e le interazioni tra gli individui il pensare che tu stai pensando che io sto pensando che lui sta facendo il ricordarmi che quello è più simpatico di quell'altro e che lui mi potrà aiutare nella caccia mentre di quella femmina non mi devo fidare eccetera e forse tutto questo produce un successo adattativo da individui che riescono a elaborare meglio queste informazioni e quindi il grande cervello diventa un premio per chi per così dire lo possiede e che si riproduce e trasmette questo carattere alla generazione successiva ed è a un certo punto che questa grande espansione encefalica per così dire trova un coronamento nella comparsa di quello che è uno dei temi di questi giorni qui a Pistoia cioè la creatività ma la creatività anche in termini di pensiero astratto di immaginazione di arte è solo con la comparsa di Homo sapiens e forse in parte qualcosa facevano anche i Neandertal che compaiono delle cose che francamente non si erano mai viste prima in tutto il record archeologico cioè compaiono delle manifestazioni artistiche è qualcosa che come erumpe da questo grande cervello che incomincia a riprodurre un mondo quasi parallelo a quello reale che è fatto delle proprie idee delle proprie fantasie un mondo in parte onirico un mondo fatto di simboli è un mondo che ci fa pensare oltre che all'arte di cui troviamo degli straordinari esempi in alcune grotte proprio qui in Europa nell'area franco-cantabrica ad esempio conoscete tutti Altamira Lascaux Grotta Chauvet ma anche poi qui in Italia dove ci sono delle rappresentazioni sorprendenti siamo decine di migliaia di anni fa ormai Homo Sapiens ormai quel triangolo ha fatto il suo corso e Homo Sapiens che era comparso in Africa si è diffuso anche in Europa e compaiono queste manifestazioni artistiche straordinarie o queste veneri paleolitiche così cariche di simbologia della fertilità del benessere e questo è qualcosa che insieme alla sua grande testa rotonda il suo grande cervello i propri manufatti per la sopravvivenza sempre in un contesto di cacciatori raccoglitori porta in giro per il mondo la nostra specie Homo Sapiens la nostra specie si sa che è comparsa circa 200.000 anni fa in Africa ormai siamo vedete alla fine della storia e da una piccola popolazione africana ancora una volta qui nel corno d'Africa probabilmente tende poi a occupare prima il continente africano diffondendosi e poi a occupare anche altri territori seguendo quelle traiettorie geografiche che erano state seguite dalle precedenti diffusioni troviamo i primi Homo Sapiens intorno a 100.000 anni fa nel vicino oriente forse anche prima di 100.000 e poi seguendo traiettorie basse arrivano prima in Australia e questa volta arrivano anche in Australia di quanto non arrivino in Europa salendo verso nord e poi sempre salendo verso nord popolano l'Asia continentale e da Bering passano e non era mai successo nelle Americhe e le date che vedete qui in K sarebbe migliaia di anni dal presente sono più o meno quelle orientative per farvi un'idea di come questo processo è galoppante anche se esponenziale c'è stata una prima fase lunghissima esclusivamente africana guardate queste date 200-100 vuol dire che la nostra specie esiste da 200.000 anni e che per la metà della sua esistenza è esistita solo in Africa poi a partire dalla metà quando ha compiuto la metà a metà della sua vita ha incominciato a uscire dall'Africa da questa specie di strettoia che è rappresentata dal Sinai forse anche da qui dalla strettoia più meridionale del Mar Rosso ma fondamentalmente da pochi passaggi una parte della grande variabilità genetica degli africani si è diffusa fuori dal continente africano e quindi noi siamo figli noi europei ma anche gli asiatici o gli americani o gli australiani siamo tutti figli di una frazione della grande variabilità africana che si è poi diffusa su tutto il pianeta adattandosi e quindi variando geneticamente in tutto il pianeta io vi ringrazio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti